nel febbraio 2018 in tempi del tutto democratici da cui non ci si attenderebbe una censura forse sì magari una censura molto forte l'ha esercitata il più noto e a questo punto diremmo forse più archeologico dei social network cioè facebook nei confronti di una figura femminile di 30.000 anni fa una raffigurazione femminile del gruppo delle veneri steatopigiche o veneri del paleolitico e forse fra queste la più nota la venere di Willendorf rinvenuta in Austria nel villaggio di Willendorf e adesso nel museo di storia naturale di Vienna è stata censurata il posto è stato eliminato perché l'immagine aveva contenuti pornografici ebbene forse questo ci dovrebbe far riflettere sulla presenza di una nuova categoria accanto alla milf forse la vilf a questo punto e altre considerazioni possono essere fatti sulle motivazioni per le quali l'algoritmo censorio di facebook è caduto sulla venere di Willendorf ad esempio se l'ingenuo e innocente utente del social network avesse postato a corredo iconografico del suo posto un'immagine della venere di Milo o dell'afrodite di Soli cipriota sarebbe stato censurato per le stesse ragioni probabilmente no non lo sappiamo in ogni caso questo rientra senz'altro nella importante ruolo dello stereotipo che riguarda l'identità di genere in questo caso lo stereotipo riguarda il canone dell'estetica femminile contemporaneo che si distacca dalla dall'immagine femminile restituita dalla venere di Willendorf ma la venere di Willendorf e altre figure del paleolitico superiore sono state vittime di altri stereotipi di genere nel corso della storia non prodotti da facebook non censurati da facebook ma prodotti dal dibattito archeologico che ha legato l'enfasi delle forme anatomiche femminili legate alla riproduzione alla sessualità alla categoria di madre legando così la figura femminile alla categoria alla figura della madre e relegando al ruolo di madre la donna questa immagine molto molto forte si è perpetrata nel tempo nel dibattito prodotto dagli archeologi maschi nell'ultimo secolo secolo e mezzo e ha prodotto un'immagine che fa parte della nostra cognizione della della figura della donna nella preistoria nella storia più profonda nel 1996 un antropologo americano l'eroe mcdermott su current anthropology ha pubblicato uno studio che vuole in qualche maniera rovesciare questo stereotipo proponendo l'ipotesi che le figure le raffigurazioni femminili della preistoria dalle forme ampie fossero in realtà immagini della donna che osserva se stessa il punto di vista femminile su se stessa fa sì che la rappresentazione sia quella con l'enfasi sulla parte superiore del corpo e appunto gli arti inferiori molto allungati e ridotti quindi un punto di vista della donna su se stessa questo naturalmente è difficile da dimostrare anzi impossibile da documentare ma certamente utile per provare in modo provocatorio a rovesciare il punto di vista la donna non è più soltanto legata mani e piedi al proprio ruolo di madre ma addirittura è una donna che oltre a essere madre anche artista come forse altre documentazioni a nostra disposizione potrebbero in qualche modo suggerire alcune grotte del del paleolitico importanti cicli di raffigurazioni di arte figurative dipinte sulle sulle sue pareti hanno sollevato negli studiosi che se ne occupano osservazioni di questo tipo legate appunto al genere all'identità di genere di chi partecipava a queste operazioni artistiche suggerendo per esempio il caso della grotta del Peschmerl nella nei pirenei francesi che risale a 25 20 mila anni fa in cui alcune delle raffigurazioni potrebbero essere associate a impronte negativo di mani femminili e lo stesso vale ad esempio per la cuevas della Smanos che è una fantastica e meravigliosa prodigiosa mirabolante e caledoscopica raffigurazione di mani che si sovrappongono l'una all'altra in negativo all'interno di questa grotta dell'11.000 avanti Cristo in Patagonia e le quali mani in gran parte sono mani femminili quindi la donna artista non è soltanto la donna madre e in qualche modo ci aiuta a uscire da uno stereotipo che è molto forte che è quello che lega la donna al focolare e l'uomo alla caccia è qualcosa cui siamo molto abituati a pensare nella nostra mentalità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti